la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovate la nostra rassegna stampa partiamo con il mattino diamo un'occhiata alla prima pagina il titolo di apertura Università e ricercatori ignorati dalla manovra il ministro Fioramonti insoddisfatto così la formazione dice non va più avanti vertice con Conte sull'autonomia stop di Renziani e 5 Stelle che chiedono di rifare il testo di lato preti pedofili svolta del Papa via il segreto collaboriamo la polizia e i magistrati accederanno ai documenti custoditi dei vescovi violenze e limite di età sale a 18 anni centropagina la crisi Napoli la mara festa di Natale scossa da Tuso rialzate la testa sempre sul centropagina terra dei fuochi pericolosi gli studi fatti senza rigore tumori il direttore dell'istituto zoo profilattico con testa Giordano campione non indicativo andiamo a vedere se uno scienziato come Antonio Giordano va alla camera e chiama i media per illustrare uno studio che ha chiamato Veritas dopo aver arruolato a caso 95 pazienti di tutte le età e 27 individui sani molto più giovani in terra dei fuochi a cui ha dosato quattro metalli pesanti nel sangue e vuole così spiegare la verità su correlazione tra inquinanti ambientali e incidenze e mortalità per tumori in quelle zone non posso fare a meno di nutrire forti perplessità parla così Antonio Limone direttore generale dell'istituto zoo profilattico sperimentale del Mezzogiorno di taglio basso torre annunziata l'assessore alla gentilezza reimpariamo a dire grazie lasciamo la prima pagina del mattino andiamo a vedere in primo piano in primo piano sul mattino la battaglia sul credito caos commissione banche l'annutti in palazzo ai 5 stelle sulla presidenza si rinvia il figlio del senatore ai 5 stelle impiegato alla popolare di Bari PD e Italia Viva si ritiri la Lega pronti a votarlo Movimento 5 stelle media lui resiste chiede aiuto a Grillo Conte noi inflessibili con i responsabili del crack la difficile scelta del presidente della commissione sulle banche ha consentito ieri a Beppe Grillo di tornare a rendere operativa la sua funzione di garante del Movimento 5 stelle ci sta provando lui laddove né Luigi Di Maio né il premier Giuseppe Conte sono finora riusciti il premier ieri è tornato a parlare di responsabilità della necessità di dare risposte e ricorda che l'intesa nel nuovo governo è ampia e saprà dispiegarsi nel tempo ma tutti devono sapere che saremo inflessibili con i responsabili delle cattive gestioni bancarie grillo incontrando i senatori del Movimento 5 stelle a Palazzo Madama assicurato per fare le cose serve tempo e pazienza un nodo alla volta dunque anche se quello che oggi la maggioranza deve sciogliere urgentemente è aggrovigliato e si chiama popolare di Bari adesso è legato quello della commissione banche tornato in primo piano proprio con la crisi dell'istituto pugliese per ora la convocazione della commissione che deve eleggere il suo presidente in quota Movimento 5 stelle è stata rinviata ma non si potrà andare avanti così all'infinito è sempre su questa pagina per Di Maio il senatore è fuori l'ipotesi Ruocco e Maniero ma il PD non ha nessuna fretta nel movimento al di là delle difese d'ufficio nessuno pensa che il nome di Lannutti sia ancora spendibile la preoccupazione Democrat che la bicamerale una volta insediata sia una sorta di clava su Banca Italia andiamo avanti sempre sul mattino le nuove regole del Vaticano pedofilia svolta del Papa via il segreto sui processi nel giorno del suo 83esimo compleanno abolito il protocollo che copriva gli abusi sui minorenni magistrati e polizia accederanno agli atti custoditi delle diocesi pedopornografia alzato il limite a 18 anni ci sono voluti anni di attese umilianti e dolorose da parte delle vittime feroci scontri interni alla curia dibattiti estenuanti che terminavano quasi sempre con un sostanziale nulla di fatto ieri però finalmente una svolta storica epocale per la chiesa e per la società civile un passo avanti di portata incommensurabile nella lotta alla pedofilia Papa Francesco ha deciso di abolire il segreto pontificio ovvero il protocollo che finora in Vaticano aveva coperto le denunce i processi le decisioni interne alla chiesa riguardanti gli abusi compiuti da preti vescovi o cardinali in seguito a violenza minaccio abuso di autorità oppure approfittando di minori o persone vulnerabili non è un fatto da poco significa che da ora in poi nessuna diocesi del mondo potrà più negare a magistrati o funzionari di polizia giudiziaria impegnati in indagini su abusi la possibilità di visionare atti custoditi negli archivi diocesani lasciamo questa pagina passiamo ai fatti dall'estero andiamo in Libia l'Italia chiede la tregua Aftar apre verrà a Roma Di Maio incontra Serrai il leader della Cirenaica confronto anche sui migranti il Consiglio dei Ministri nominerà un inviato speciale per il paese nordafricano quindi un inviato speciale per la Libia l'Italia prova a recuperare la sua centralità nella stabilizzazione del paese africano e decide di istituire una figura centrale che abbia un rapporto di alto livello politico continuo intenso con tutte le parti libiche a parlare è lo stesso ministro degli affari esteri Luigi Di Maio di ritorno dalla missione Lampo che lo ha portato dopo mesi a dialogare nuovamente con le parti principali del conflitto passando dalla Tripolitania alla Cirenaica un tentativo di recuperare quel ruolo di mediazione che le burrasche che stavano attraversando la politica italiana hanno fatto trascurare rimaniamo su questa pagina non è Tripoli ma il petrolio il vero obiettivo del generale schierate con Serrai nove città prendere la capitale avrebbe un prezzo alto difficile mantenerne il controllo risale a giovedì scorso l'ultimo annuncio del maresciallo Haftar sull'ora zero su quell'assalto a Tripoli che rinnova di continuo ma che poi non mette in pratica la verità è che l'uomo forte della Cirenaica è sostenuto da circa 25.000 uomini ma quella conquista lo metterebbe in seria difficoltà perché difficilmente riuscirebbe a tenere in scacco l'esercito di Fayez Salserrai che vede schierati anche i fortissimi misuratini Passiamo alla prima pagina del mattino di Salerno il titolo di apertura addio a Crisci Salma sequestrata il medico muore 17 mesi dopo l'operazione di Colecissi la procura dispone l'autopsia i periti del PM intervento sbagliato in clinica indagati 10 sanitari lutto in città e poi cure negate al disabile sentenza pilota i diritti della persona vengono prima non c'era condannata l'ASL la riabilitazione è un diritto e le cure non possono essere interrotte tantomeno davanti a dei numeri come possono essere i tetti di spesa sono i passaggi fondamentali della sentenza firmata dal giudice Raffaella Caporale del Tribunale di Nocera che ha ordinato all'ASL di Salerno di autorizzare la terapia domiciliare erogata ad un minore per il tramite del centro di riabilitazione che lo aveva in cura di lato la politica Carfagna gelo su Caldoro niente veti ma primarie poi la decisione patti con il clan la Cassazione Cava in carcere l'ex vice sindaco è sempre di lato la scuola occupate due superiori al tasso vince la mediazione poi l'economia rapporto Svimez il sud arretra ecco perché Salerno frena centro pagina l'appello degrado centro storico riaprite gli spazi negati comitato di quartiere SOS al comune il commercio negozi e mercanti la rivoluzione inizia dal no alla plastica Cascone presenta il testo all'esame in regione più libertà su promozioni e aperture festive e poi le infrastrutture gara per la pista un ricorso ritarda i lavori all'aeroporto lasciamo il mattino spostiamoci sulla città l'apertura addio a Crisci il prof che spiegava la morte una lunga agonia durata 16 mesi iniziò con un'infezione dopo un intervento chirurgico e terminata ieri mattina medico legale di fama nazionale ha collaborato con le procure sui più inquietanti fatti di cronaca centro pagina la divina sfigurata costiera la vergogna che frana sempre sul centro pagina il turismo occasione mancata provincia musei chiusi nei giorni di luci e feste di lato a Salerno Pulita 100 assenti al giorno poi tassa rifiuti ridotta con le cartelle Soget Ponte Cagnano il comune non conta ma paga l'aeroporto Eboli Pip Stangata Cariello consorzio liquidato a spese delle aziende Battipaglia colate di cemento a due passi dal mare c'è il no dei giudici le regionali Caldoro frenato Carfagna puntiamo su facce nuove di taglio basso Salernitana Iallo Diplomazia al lavoro club e forze dell'ordine vogliono ricucire lo strappo con i tifosi e infine la storia San Cipriano la sindaca diventa calciatrice Lasciamo la prima pagina della città andiamo su cronache l'apertura solidarietà sotto le luci barbiere per i senza tetto il grande cuore di Stefano Scarpa che ha aperto il suo salone agli ultimi e unitamente al suo staff che ha lavorato gratis sta donando un sorriso sotto la testata diritti dei disabili Andrea Vince la sua battaglia non vanno legate le cure riabilitative poi il brindisi di Forza Italia Mara Carfagna nessun veto su Caldoro ma occorre il rinnovamento centropagina mondo della sanità a lutto la medicina salernitana piange il professore Antonello Cris intanto prosegue l'inchiesta della magistratura in gravi condizioni dopo l'intervento alla Colecisti Sarno servizi in esterno e bagarre a Palazzo di Città Piana del Sele alleanza con l'Andrina arrivano le prime condanne e poi di taglio basso Ventura consegna a Zice che le chiavi del centrocampo si è dimesso ufficialmente Tiziano De Patre questa era crona che termina così la prima parte della nostra rassegna stampa ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità bentornati in studio riprendiamo la rassegna stampa con le pagine del mattino andiamo a vedere verso le regionali in Campania Carfagna non cede Caldoro niente veti ma ora le primare la leader di Voce Libera brinda coi fedelissimi nella sede di Forza Italia avverte ci sono tanti nomi spendibili per compattare partito ed elettori nessun veto su Caldoro ma partito ed elettorato chiedono rinnovamento non retrocede di un passo la vicepresidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna ieri a Salerno per il brindisi natalizio con i fedelissimi dalla sua città e dalla sede del partito salernitano di Forza Italia la sua famiglia politica ribadisce che non c'è alcun veto sulla possibile candidatura di Stefano Caldoro a governatore in Campania ma soltanto la richiesta di una parte del partito di privilegiare il valore dell'unità rinnovamento ed unità richieste che sottolinea non possono essere ignorate e liquidate perché è riconducibile ad una semplice fazione o fronda si dice comunque pronta a fare la propria parte la deputata salernitana che però non nasconde le sue perplessità sulla scelta del candidato lanciato dal leader del partito Silvio Berlusconi sul quale si è registrata tra l'altro anche la convergenza degli alleati da Giorgia Meloni a Matteo Salvini sarebbe la terza sfida Caldoro De Luca continua gli elettori chiedono cambiamento andiamo avanti sempre sul mattino rifiuti in fiamme andiamo a Battipaglia dopo i roghi dell'estate corsa alla prevenzione la regione autorizza la Nappi Sud ad adeguarsi alle norme applicati nuovi sistemi antingendio il controllo e vie di esodo sempre a Battipaglia Alba da operaia guardiano per i giudici non fu estorsione Campagna spaccio di droga stangata ai del giorno 16 condanne e una sola assoluzione 16 condanne una sola assoluzione per il gruppo del giorno la famiglia di Campagna che si riforniva di cocaina e marihuana dalla cosca calabrese dei Giorgi per poi spacciare la droga sulle piazze della Piana del Sele la sentenza emessa nel tardo pomeriggio di ieri dal GUP Gerardina Romaniello del Tribunale di Salerno tra abbreviati e patteggiamenti ha portato alla condanna di diverse persone Eboli finisce con l'auto nella buca donna in panne vigili altrove andiamo a vedere finisce dentro una buca e perde il controllo dell'auto per fortuna la donna alla guida è lesa ma promette denuncerò il comune e i vigili urbani le strade colabrodo sono un problema annoso che non trova soluzione non esiste altra soluzione se non quella di fare manutenzione l'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio dello scorso lunedì all'altezza dei due semafori sulle due strade vicino alla chiesa del Sacro Cuore sul manto stradale forse la pioggia dei giorni scorsi si è aperta una voragine che la donna al volante della sua vettura non è riuscita a schivare battipaglia picchia la moglie per gelosia denunciato marito violento laureana cilento raccoglie ortaggi e cade anziano grave in ospedale Atena Lucana sversamenti illegali il sindaco in procura continuano i controlli e le reazioni sullo sversamento e stoccaggio di rifiuti di dubbia provenienza nel Vallo di Riano il sindaco di Atena Lucana Luigi Vertucci nelle scorse settimane ha presentato attraverso l'ufficio legale e con l'avvocato Marianna De Paola una istanza alla procura per chiedere delucidazioni sul presunto sversamento di rifiuti si tratta dell'area sottoposta a sequestro dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina nelle campagne della frazione Scalo e chi ha visto la scorsa settimana anche l'opera di un escavatore dell'esercito per approfondimenti il sindaco ha presentato istanza per comprendere cosa stia accadendo sul proprio territorio in quell'operazione sono stati sequestrati anche 11 maiali alcuni oltre che alcuni mezzi nulla finora è stato riferito ci sono solo ipotesi come quella che gli inquirenti avrebbero trovato del liquido come quello sequestrato tra Sant'Arsenio e Polla ovvero idrossido di potassio ma si tratta di un'ipotesi perché c'è il più stretto riservo sul caso e anche al comune di Atena Lucana è stato risposto da parte della procura di potenza che l'indagine ovviamente top secret è ancora in corso quindi nulla si può dire massimo riservo anche su altri controlli e verifiche sul territorio l'indagine pare essere molto più ampia di quanto finora emerso lasciamo il mattino passiamo a cronache in primo piano una storia di solidarietà Stefano Scarpa il mio salone a disposizione dei senza tetto felice ed emozionato anche il presidente di Venite Libente Rossano Braga ci sono i regali di Natale come questo che non hanno prezzo il gesto di solidarietà del titolare del barbershop di Via Duomo ho voluto mettere a disposizione il mio tempo e il mio lavoro una storia di solidarietà una di quelle che fanno bene al cuore e all'anima una storia che vede protagonista un giovane barbiere Stefano Scarpa che ha deciso di aprire le porte del suo salone ai senza tetto della città lunedì giorno di chiusura per barbieri e parrucchieri Stefano ha deciso di fare un regalo di Natale a quelle persone che ad oggi vengono definite invisibili persone che non hanno un tetto sulla testa né la possibilità di mangiare un piatto caldo se non grazie al cuore di persone come Stefano volevo solo dimostrare che tutti possiamo fare qualcosa per gli altri per le persone meno fortunate di noi racconta Stefano emozionato io ho deciso di mettere a disposizione degli altri la mia professione e andiamo avanti su cronache Palomonte Giovanna pastoressa la sua morte da speranza di vita anche Palomonte perde la speranza di una giovane vita il cordoglio dell'amministrazione comunale del sindaco Mariano Casciano il fidanzato della 28enne Giuseppe Casciano vive a Palomonte la famiglia della ragazza ha deciso di donare gli organi quindi la comunità di Palomonte andiamo a vedere la comunità di Palomonte a lutto per la morte della giovane psicologa 28enne morta nella giornata di lunedì dopo essere rimasta ferita tra venerdì sera a Lauria in provincia di Potenza in seguito al crollo del tetto della palestra in cui si trovava sempre su questa pagina omicidio andiamo a buon abitacolo omicidio pascuzzo la penta condannato a 18 anni la procura aveva chiesto l'ergastolo e poi polla raffica di furti svaleggiate tre case e rubata un'auto i militari della stazione locale hanno dato vita ad un inseguimento fino in Basilicata andiamo avanti eboli 190 mila euro per i lavori al cimitero a breve l'affidamento dei lavori la progettazione approvata dalla giunta comunale rientra nell'elenco delle opere previste per l'anno in corso battipaglia boom di presenze sul territorio un aumento del 23% in più rispetto al 2017 i dati forniti dall'istat boom di turismo quindi a battipaglia Teggiano per la natalizia del Vallo di Diano con il presepe di Montevergine la città è protagonista della programmazione regionale dedicata al turismo rimaniamo a Teggiano il ricordo del sisma del 1857 i tegianesi ringraziano Sancono ieri tanta partecipazione e commozione per un appuntamento che lega la fede alla tradizione battipaglia studente morto dopo un intervento scuola-lutto avviata una raccolta fondi tra docenti e personale scolastico per accompagnarlo in Marocco e queste erano le pagine di Cronache con cui termina la nostra rassegna stampa vi ringrazio di essere stati con noi vi auguro buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti